Dalla Nove Colli, un in bocca al lupo al Paglio di Cesena, noi metteremo in sella 12.000 cavalieri in bicicletta. E un grazie soprattutto ai mille volontari, ma a tanti volontari che grazie a loro si possono effettuare queste grandi manifestazioni. Questi sono i veri cavalieri di oggi, i volontari. Grazie a tutti. Grazie a tutti.